Hazel Il carcere delle Amazzoni si trovava in cima a un corridoio di stoccaggio, a 10 metri da terra. Kinsey condusse Hazel su per tre rampe di scale e lungo una passerella di metallo, le legò blandamente le mani dietro la schiena e la spinse, facendola passare davanti a varie casse di gioielli. Una trentina di metri più avanti, sotto la luce fredda del neon, c'era una serie di gabbie in fil di ferro, appese a dei cavi. Percy e Frank si trovavano in due delle gabbie e parlottavano tra loro. Lì accanto, sulla passerella, tre guardie dall'aria annoiata fissavano le tavolette nere che avevano in mano, come se stessero leggendo. Hazel si disse che le tavolette erano troppo piccole per essere dei libri, poi le venne in mente che potevano essere una specie di minuscoli, come li chiamavano gli uomini moderni, computer portatili. Tecnologia segreta delle amazzoni, probabilmente. Trovò l'idea inquietante quasi quanto quella dei carregli levatori da guerra al piano inferiore. «Muoviti, bella!» ordinò Kinsey, a voce abbastanza alta da farsi sentire dalle guardie. Con la spada, bungolò sulla schiena la prigioniera. Hazel camminava il più lentamente possibile, ma aveva il cervello in fermento. Doveva scogitare un piano di salvataggio geniale. Kinsey, aveva fatto in modo che lei riuscisse a rompere le catene senza problemi, ma sarebbe stata comunque a mani nude contro tre guerriere bene addestrate e doveva agire prima che la infilassero in una gabbia. Passò davanti a un bancale di casse con la scritta «Anelli di topazio blu a 24 carati» e poi davanti a un'altra con la dicitura «Braccialetti dell'amicizia» in argento. Un display elettronico accanto ai braccialetti diceva «Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche lampada solare con gnomo da giardino e lancia fiammeggiante della morte. Acquistandole tutte e tre avrete uno sconto del 12 per cento». Hazel si bloccò. «Dèi dell'Olimpo, che stupida», si disse. «Argento, topazio». Mandò i suoi sensi alla ricerca di metalli preziosi e per poco non le scoppiò il cervello per il risultato. Si trovava accanto a una montagna di gioielli alta a sei piani, ma davanti a lei, da lì fino alle guardie, c'erano solo gabbie. «Che c'è?» si bilò Kinzi. «Continua a camminare! Si insospettiranno!» «Falle venire qui!» borbottò Hazel, girando la testa. «Perché? Ti prego!» Le guardie grottarono la fronte, voltandosi verso di loro. «Che cosa state a guardare?» urlò Kinzi. «Ecco la terza prigioniera! Venite a prendervela!» «Perché non puoi fare altri trenta passi, Kinzi?» replicò una delle guardie. «Perché...» Hazel si gettò in ginocchio, tentando di simulare il più possibile un'espressione da mal di mare. «Ho la nausea! Non ce la faccio a camminare! Le amazzoni... troppa paura!» «Siamo alle solite», disse Kinzi alle guardie. «Ora avete intenzione di venire a prendere la prigioniera o devo dire alla regina Illa che non compiete il vostro dovere!» La guardia più vicina alzò gli occhi al cielo e si mosse. Hazel aveva sperato che la seguissero anche le altre due, ma se ne sarebbe preoccupata dopo. La guardia la ferrò per un braccio. «Bene, prenderò io in custodia la prigioniera. Ma se fossi in te, Kinzi, non mi preoccuperei di Hilla. Non sarà, regina, ancora per molto!» «Lo vedremo, Doris!» Kinzi si girò e andò via. Hazel aspettò finché non sentì l'eco dei suoi passi allontanarsi lungo la passerella. Doris strattonò la prigioniera. «Allora, muoviti!» Hazel si concentrò sulla parete di gioielli accanto. «Quaranta grosse casse di braccialetti d'argento! Non mi sento molto bene!» «Non provare a vomitarmi addosso!» rinduò Doris. Tentò di farla alzare forza, ma Hazel si accasciò come un bambino che fa i capricci in un negozio. Accanto a lei le scatole cominciarono a tremare. «Lulù!» gridò Doris a una delle compagne. «Dammi una mano con questa mocciosa!» «Amazzoni che si chiamano Doris e Lulu?» pensò Hazel. «Oh beh!» La seconda guardia si avvicinò lentamente. Hazel decise che era il momento migliore. Prima che la tirassero in piedi, urlò «Oh!» e si appiattì lungo il margine della passerella. Doris cominciò a dire «Oh, ma fammi il pi...» L'intero bancale di gioielli esplose con un rumore simile a quello di migliaia di slot machine che centrano il jackpot. Un'ondata di braccialetti dell'amicizia si riversò sulla passerella, scaraventando Doris e Lulu proprio oltre il parapetto. Avrebbero rischiato di ammazzarsi cadendo, ma Hazel non era così cattiva. Chiamò raccolta qualche centinaia di braccialetti che balzarono sulle guardie e andarono a serrarsi intorno alle loro caviglie, lasciandole appese a testa in giù, a urlare come due bambine. Hazel si girò verso la terza guardia e spezzò le catene, che erano robuste più o meno quanto la carta igienica. Poi raccolse una lancia da terra. Era una frana con quel tipo di arma, ma sperava che l'avversaria non se ne accorgesse. «Devo ucciderti da qui?» ringhiò «O vuoi che ti raggiunga?» Quella si girò e fuggì via. Hazel urlò in direzione di Doris e Lulu «I vostri tesserini di riconoscimento? Passatemeli, a meno che non vogliate che sciolga i braccialetti dell'amicizia e vi lasci cadere!» Quattro secondi e mezzo dopo si ritrovò in mano due tesserini. Si precipitò alle gabbie e ne passò uno. La porta si aprì di colpo. Frank la fissò esterrefatto. «Hazel, sei stata incredibile!» «Persi a noi. Devo ricordarmi di stare alla larga dai gioielli. Per questa puoi fare un'eccezione!» Hazel gli gettò la sua collana. «Le nostre armi e le provviste sono in fondo alla passerella. Dobbiamo sbrigarci!» Tra poco gli allarmi scattarono in tutta la caverna. «Ecco, intendevo proprio questo!» «Andiamo!» La prima parte della fuga fu semplice. Recuperarono le loro cose senza problemi e cominciarono a scendere giù dalla scala. Ogni volta che le Amazoni si accalcavano sotto di loro, chiedendo la resa, Hazel faceva esplodere una cassa di gioielli, seppellendo le avversarie sotto cascate d'oro e d'argento. Arrivati in fondo alla scala, si trovarono davanti una scena tipo Apocalisse da Mardi Gras. C'erano Amazoni intrappolate fino al collo in collane di perline, altre a testa in giù sotto una montagna di orecchini diametista, più un carrello elevatore da guerra, sepolto sotto un mucchio di braccialetti d'argento con i ciondoli. «Hazel Levec, sei... sei pazzesca!» esclamò Frank. «Lei avrebbe tanto voluto baciarlo lì su due piedi, ma non avevano tempo. Tornarono di corsa verso la sala del trono. Si imbatterono in un'amazone che doveva essere fedele a Hill. Non appena vide i fuggiaschi, si girò come se fossero invisibili. Persi cominciò a chiedere...» «Che cavolo...» «Alcune di loro vogliono farci evadere», disse Hazel. «Te lo spiego dopo». La seconda amazone che incontrarono non fu altrettanto cordiale. Con indosso l'armatura completa, bloccava l'ingresso alla sala del trono. Brandì la lancia alla velocità della luce, ma stavolta Persi non si fece trovare impreparato. Sguainò vortice e si lanciò in battaglia. Quando l'avversaria tentò di colpirlo, lui si scansò, mozzò l'asta della lancia con la spada e le sbatté l'Elsa sull'elmo. La guardia si accasciò a terra. «Morte onnipotente!» esclamò Frank. «Come hai... non era certo una tecnica romana!» Persi sorrise. «Il Grecus sa il fatto suo, amico mio! Prego, dopo di te!» Si precipitarono nella sala del trono. Come promesso, Hill e le sue guardie se ne erano andate. Hazel corse verso la gabbia di Arion e strisciò il tesserino di riconoscimento nella serratura. Lo stallone uscì subito, impennandosi trionfante. Persi e Frank si fecero subito indietro. «E... è mansueto?» chiese Frank. «Il cavallo nitri, furioso!» «Credo di no», suppose Persi. «Ha appena detto, ti calpesterò a morte, sciocco cucciolo d'uomo cino-canadese!» «Cucciolo d'uomo?» farfugliò Frank. «Parli il cavallese?» domandò Hazel. «Parlare con i cavalli è una caratteristica di Poseidone», spiegò Persi. «Cioè, di Nettuno». «Allora tu e Arion dovreste andare d'accordo», replicò Hazel. «Anche lui è figlio di Nettuno». Persi sbiancò. «Se non fossero stati in una situazione tanto brutta, l'espressione di Persi l'avrebbe fatta ridere. In ogni caso è veloce, ci può portare fuori di qui». Frank non sembrò entusiasta. «Non ci stiamo tutti e tre su un cavallo solo, no? Cadremo oppure lo rallenteremo o...» Arion nitri di nuovo. «Ai!» Persi sorrise. «Frank, il cavallo dice che sei un... no, meglio se non lo traduco. Comunque ha detto pure che c'è un carro nel magazzino e che lui lo trainerebbe volentieri». «Eccoli!» gridò qualcuno dal fondo della sala del trono. Una decina di amazzoni si lanciarono alla carica, seguite da uomini in tutta arancione. Non appena videro Arion, indietreggiarono rapidamente e si diressero ai carrelli elevatori da guerra. «Il carro? Sì, mi ricordo di averlo visto!» Hazel balzò in groppa ad Arion, sorridendo. «Seguitemi, ragazzi!» Entrò al galoppo nella caverna più grande e disperse una folla di maschi. Persi mise fuori combattimento un amazzone. Con la lancia, Frank ne mandò altre due a gambe all'aria. Hazel percepiva quanto Arion avesse voglia di correre. Voleva andare a tutta velocità, ma gli serviva più spazio. Dovevano arrivare fuori. Incrociò una pattuglia di amazzoni che si dispersero terrorizzate alla vista del cavallo. Una volta tanto, la spata di Hazel sembrava della lunghezza giusta. La brandì contro tutte quelle che le capitavano a tiro. Nessuna osò sfidarla. Persi e Frank correvano dietro di lei. Finalmente raggiunsero il carro. Arion si fermò accanto al gioco e Persi si mise al lavoro per sistemare redini e finimenti. «È una cosa che hai già fatto, vero?» chiese Frank. Persi non ebbe bisogno di rispondere. Le sue mani si muovevano veloci e in un batter d'occhio il carro fu pronto. Poi saltò a bordo, urlando «Frank, svelto! Hazel, vai!» Un grido di battaglia si levò alle loro spalle. Un intero esercito di amazzoni si precipitò nel magazzino. Otre era in persona e raccavalcioni su un carrello elevatore da guerra, con i capelli d'argento che fluttuavano mentre ruotava la balestra verso il carro. «Fermateli!» gridò. Hazel spronò Arion. Attraversarono la caverna a tutta velocità, serpeggiando tra bancali e carrelli elevatori. Furono sfiorati da più di una freccia. Qualcosa esplose alle loro spalle. «Le scale!» gridò Frank. «Non c'è possibilità che questo cavallo traini il carro su così tante rampe di... oh santi numi!» Per loro fortuna, le scale erano abbastanza ampie e Arion non dovette nemmeno rallentare. Si slanciò sugli scalini, con il carro che gli sferragliava dietro. Hazel si voltò diverse volte per assicurarsi che Frank e Persi non fossero caduti. «Poveri ragazzi!» Avevano le nocche sbiancate per quanto si aggrappavano forte al carro e battevano i denti come teschi di Halloween caricati a molla. Finalmente raggiunsero l'atrio. Arion irruppe nella piazza e disperse un gruppo di signori in giacca e cravatta. Hazel percepì la tensione nel costato del cavallo. L'aria fresca gli aveva fatto venire una gran voglia di correre, ma lei tirò le redini. «Ella!» gridò verso il cielo. «Dove sei? Dobbiamo andare!» Per un attimo ebbe una paura tremenda che l'arpia fosse troppo lontana per sentirla. Poteva essersi persa o essere stata catturata dalle amazzoni. Alle loro spalle un carrello elevatore da guerra sferragliò lungo le scale e si precipitò rombando nell'atrio, seguito da uno stuolo di amazzoni. «Arrendetevi!» urlò Otrera. Il carrello elevatore sollevò i rebbi affilati. «Ella!» gridò Hazel, disperata. Come un lampo di piume rosse, l'arpia atterrò sul carro. «Ella è qui! Amazzoni e guzze! Via subito!» «Tenetevi stretti!» gli avvisò Hazel. Poi si sporse in avanti e disse «Arion, corri!» Il mondo sembrò allungarsi. La luce del sole si piegò intorno a loro. Arion sfrecciò via dalle amazzoni e si catapultò nel centro di Sieto. Hazel vide una colonna di fumo dove gli zoccoli di Arion sfioravano terra. Il cavallo si lanciò rombando verso il porto, saltando sopra le auto e sfrecciando a tutta birra agli incroci. Hazel urlò con tutto il fiato che aveva in gola, ma era un urlo di gioia. Per la prima volta nella sua vita, nelle sue due vite, si sentiva assolutamente inarrestabile. Arion raggiunse il mare e balzò subito giù dal modo. A Hazel si tapparono le orecchie, sentì un rombo e dopo qualche istante capì che si trattava di un buato sonico. Arion sfrecciò verso lo stretto di Puget, con l'acqua che si trasformava in vapore sulla sua scia, mentre lo skyline di Seattle si allontanava alle loro spalle.